Ecco, siamo con mister Pallotta. Mister, allora, una Paolana che oggi ha perso a Bovalino, con tanti under, dobbiamo dire, e con un Soria veramente che si è comportato alla grande oggi. Ah, sì, buonasera innanzitutto. Felicissimi perché oggi abbiamo giocato la partita con sei under. L'esordio di Soria, un 2002 in porta, vista la classifica è una grande gratificazione per me, per la società tutta, avere questi punti e naturalmente cercheremo fino alla fine di arrivare, di vincere questo premio, sia come squadra più giovane e siamo primi anche nella Coppa Disciplina. Quindi per noi è come un campionato vinto. Quindi, ripeto, oggi i ragazzi sono stati bravissimi, hanno tenuto il campo bene, onestamente loro avevano altre motivazioni. Più di noi sono stati più bravi, complimenti a loro, però dico bravi perché i ragazzi stanno crescendo domenica dopo domenica. E quindi questa crescita dovrebbe essere tra i nostri, alla fine? No, purtroppo i punti sono tanti. A noi interessa il piazzamento perché poi bravi lì su Corigliano, Reggio Miterraneo e Rossanese a lasciare questi tanti punti. Quindi non si faranno i play-off, però, ripeto, cercare di arrivare primi nella classifica dei giovani e comunque entrare nella grid di a play-off, anche se non si fanno. Quindi c'è stato, ripeto, un grande lavoro da parte della società, prima dello staff tecnico e dei ragazzi tutti. Grazie, mister, di essere venuto al nostro micro.